Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo video di oggi che parla di Elon Musk ecco come è diventato l'uomo più ricco del mondo allora, dopo aver venduto la sua cota di Paypal che lui fondò, era uno dei fondatori di Paypal investì 100 milioni di dollari per fondare SpaceX un'azienda che fa lanci, lui vuole colonizzare Marte questo è il suo obiettivo e 70 milioni di dollari in Tesla che era poco più di una start-up altri 10 milioni in SolarCity che poi verrà ingolobata da Tesla SolarCity è un'azienda che fa pannelli solari e infatti Tesla fa macchine e pannelli solari è risaputo che investì tutto quello che aveva e dovette farsi prestare i soldi da un amico per pagare l'affitto anche perché aveva appena avuto un divorzio costato gli 20 milioni di dollari Musk nel 2020 ha venduto tutte le sue proprietà e come nel 2008 è tornato in affitto le azioni di Tesla sono salite nell'ultimo anno del 649% rendendolo l'uomo più ricco del mondo Musk detiene il 17,99% di Tesla rispetto a Jeff Bezos che era prima il più ricco del mondo adesso Musk ha superato che detiene solo il 10,60% di Amazon le azioni Amazon sono salite nell'ultimo anno del 76% quelle di Tesla quasi di 10 volte di più per oggi è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti